Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del Cafè del Mercoledì. Oggi il nostro ospite particolarmente gradito è il dottor Carlo Nordio, componente della CDA della Fondazione Einaudi. Grazie dottor Nordio per essere a casa sua nella sede della Fondazione Einaudi. Non posso non cominciare questa puntata chiedendole come ha vissuto, come si è sentito ad essere stato l'italiano più votato dopo il presidente Mattarella nelle ultime elezioni del Capo dello Stato, diciamo su proposta della Fondazione Einaudi. È vero, grazie. Sì, è stato un grande onore e anche una sorpresa perché io non ho nessuna esperienza politica concreta, soltanto diciamo una ricca esperienza teorica perché leggo libri di teoria della politica e di storia e monografie di uomini illustri politici da 60 anni, cioè da quando ero al liceo, ma esperienza politica concreta nessuna. E poi sono rimasto particolarmente onorato dell'indicazione fatta dalla Fondazione Einaudi e anche dai 30 voti, chiamiamoli aggiuntivi, dell'ultima votazione. Particolarmente perché da parte di Fratelli d'Italia, l'indicazione della mia modesta persona, sta anche a significare un indirizzo più liberale, europeista e atlantista di quella forza politica, visto che le mie idee in proposito sono note a tutti, o erano e lo sono particolarmente all'onorevole Meloni, che sono quelli di un atlantismo e di un europeismo liberale senza se e senza ma. Quindi anche in questo senso una gradita sorpresa. Grazie, dottor Nordio. Adesso vorrei presentarvi Andrea Davola, che è un ricercatore della Fondazione Einaudi e insieme a me oggi condurrà questa conversazione con il dottor Nordio. Vorrei dare proprio ad Andrea la parola per la prima domanda al dottor Nordio. Grazie, e grazie al dottor Nordio per essere qui. La domanda è su un tema di grande attualità politica, quello del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha provveduto nelle scorse settimane a reiterare la nomina del primo Presidente e del Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, la quale ha definito le stesse nomine manifestamente irragionevoli. Ora, c'è un cortocircuito insieme all'organo di governo autonomo della magistratura. Sono state proposte diverse soluzioni, quali il sorteggio direttamente dai consiglieri ottemperato. Vorrei sapere qual è la sua posizione e se semplicemente cambiando il sistema elettorale si possa liberare la magistratura dal sistema correntizio se servono al contrario altre riforme. Partiamo dalla constatazione che vi è stato un conflitto tra il Consiglio Superiore della Magistratura, che è un organo costituzionale di altissimo prestigio per la sua composizione, ricordiamo che è presieduto dal Capo dello Stato, è il massimo organo della giurisdizione amministrativa, cioè il Consiglio di Stato, che ha annullato la nomina che lei ha citato definendola manifestamente irragionevole. Ora è direi singolare, per non dire molto grave, che il massimo organo della giustizia amministrativa si esprime in questo modo, a torto o a ragione, nei confronti di un organo altrettanto e forse più autorevole. Questo dimostra che qualcosa non funziona nella nostra dialettica delle istituzioni. Per quanto riguarda la nomina del CSM, il mio giudizio è netto. Di fuori del sorteggio non esiste nessuna possibilità di limitare, ridurre o addirittura eliminare la degenerazione delle correnti. Il sistema elettorale, quale che esso sia, manterrebbe comunque la possibilità da parte delle correnti di dividersi le candidature, le circostrizioni, addirittura prima delle elezioni. C'è un esempio in questo senso, un esempio proprio della nostra politica, perché nel 1994, quando fu introdotto il sistema uninominale, sia pure un po' corretto, un po' l'inglese, no, ogni circoscrizione ha un paio di candidati, si vota l'uno o l'altro e quindi si dice si sa chi si vota. Ma non è andata così, perché i partiti si erano divisi con un accordo di desistenza, le circoscrizioni ancora prima delle elezioni, per cui avevamo un surrogato di legge elettorale proporzionale, perché di fatto era proporzionale essendosi divisi le circostrizioni prima delle elezioni secondo gli accordi di desistenza, senza però avere i pregi del sistema proporzionale e mantenendoli tutti i difetti. Quindi qualsiasi riforma elettorale sarebbe assolutamente inutile. L'unico sistema è il sorteggio. Qui però si pongono dei problemi di ordine costituzionale, perché la Costituzione sotto questo profilo è tassativa. Il sistema di un sorteggio temperato, cioè di una elezione fatta nell'ambito di un canestro di magistrati e di giuristi sorteggiati, potrebbe però essere compatibile con la Costituzione. Grazie. Dottor Nordio, l'Italia ha un problema di selezione della classe dirigente, che forse parte addirittura dalla scuola. Noi ne abbiamo parlato la scorsa settimana, proprio nel café del mercoledì, presentando insieme al professor Gian Cristiano Desiderio, un libro che sta per essere pubblicato, edito da Rubettino e che stanno curando, che hanno curato due giovani ricercatori della Fondazione Inaudi e Andrea Davola, che abbiamo qui al tavolo con noi, Ottavia Munari, che ci sta assistendo. E in questo libro, professore, si parla dell'abolizione del valore legale del titolo di studio, proprio per seguire il principio e in audiano della uguaglianza dei punti di partenza. Il CSM è competente in materia di valutazione professionale dei magistrati, però noi ci ritroviamo con il 99 e oltre per cento dei ragazzi che vengono ammessi agli esami di Stato, diciamo così, e anche più del 99 per cento dei magistrati che vengono valutati positivamente dal CSM, che sembra uno sproposito, sia da una parte che da un'altra, ma questo si potrebbe dire per la pubblica amministrazione e per diversi altri gangli essenziali della nostra vita sociale, civile, culturale e politica. E allora, per limitarci solo al CSM con lei, quest'altro problema, come potrebbe essere affrontato e risolto quello della valutazione dei magistrati? Beh, partiamo, visto che lei è partito un po' da lontano, partirei anch'io da lontano. Il problema è essenzialmente dell'educazione scolastica, sia della scuola secondaria, sia dell'università. Durante la correzione dei compiti dell'ultimo concorso di magistratura sono stati ammessi pochissimi candidati, non solo e non tanto per impreparazione giuridica, quanto per conflitto insanabile con la lingua italiana, cioè non sanno scrivere. E questo dipende dal fatto che sin dalle scuole primarie e poi ancora all'università scrivono poco, leggono poco, i loro elaborati non vengono corretti e se ci sono vengono corretti male e quando si presentano all'esame i ragazzi li vedi con la sindrome del foglio bianco perché non sanno come iniziare. Io ho avuto la possibilità un paio di volte di essere nominato commissario per gli esami di avvocato e durante la correzione dei compiti abbiamo visto delle cose incredibili, anche come ortografia, il perché scritto con la X, cioè con la cosiddetta scrittura bregata. Quindi quando arrivano al concorso di magistratura non sono particolarmente preparati. Per quanto riguarda le valutazioni del CSM, basterebbe, il professor Di Federico a suo tempo ha fatto degli studi molto approfonditi sulle valutazioni che dà il CSM sulla promozione e l'avanzamento in carriera che poi è automatico dei magistrati e il 99,9% hanno dei giudizi elogiativi, direi elogiativi e dire poco, sono tutti bravissimi, intelligentissimi, operosissimi, eccetera. Ovviamente questo non può essere vero. In realtà i giudizi vengono formulati in prima battuta dal capo dell'ufficio, il procuratore capo, il presidente del tribunale, poi dal consiglio giudiziario e arrivano a stampone al CSM. Diciamo che l'anzianità senza demerito, come si dice, è il criterio per l'avanzamento della magistratura. Non c'è una valutazione fatta sugli elaborati di questi magistrati. Per quanto riguarda i pubblici ministeri non c'è una valutazione che sarebbe molto importante tra le indagini che hanno iniziato, i processi che hanno promosso e gli esiti di questi processi. Cioè quante volte abbiano iniziato delle indagini inutili e costose che si sono rivelate infondate. E quindi anche oltre al CSM è proprio il sistema di valutazione che andrebbe ripetuto da capo. Dottore, le vorrei fare anche un'altra domanda legata ad alcuni episodi di cronaca delle ultime settimane, alcuni degli ultimi giorni, che riguardano uno scontro molto forte. E devo dire che nel suo discorso di insediamento il capo dello Stato, che ha toccato vari punti, tutti forse i punti sensibili del nostro vivere civile, si è particolarmente, ha particolarmente centrato la sua attenzione sulla riforma del sistema giudiziario e nel rapporto tra politica e magistratura. Senza voler entrare nei particolari abbiamo visto uno scontro che ha riguardato l'ex Presidente del Consiglio Renzi con la magistratura, però anche il Movimento 5 Stelle. E allora come risolvere anche questo rapporto politica-magistratura? Come regolarlo? Come fare in modo che non sia la magistratura poi a dover decidere per i partiti oppure che i partiti non si comportino in un modo contrario? Ricordiamo che l'articolo 49 non è stato attuato. E come l'articolo 49 molti altri articoli della Costituzione non sono stati attuati ancora. Anche qui bisogna partire da lontano, cioè dal 1992-94, quando con Tangentopoli i cinque partiti storici che avevano governato l'Italia per quasi 50 anni furono vaporizzati dalle indagini giudiziarie. Questa dissoluzione comportò un indebolimento della politica e parallelamente una invasione di campo da parte della magistratura. La famosa funzione di supplenza che ha esercitato la magistratura in questi ultimi 30 anni è anche conseguenza della retrocessione della politica, cioè della marcia indietro, un po' codarda, che ha fatto appunto la politica davanti alle indagini dei magistrati. Va detto che la politica ha spesso strumentalizzato le stesse indagini delle procure cercando di colpire o addirittura di eliminare per via giudiziaria quegli avversari politici che non riuscivano a vincere nel dibattito ordinario e nelle competizioni elettorali. Il fatto stesso che si fosse affermata l'idea balzana e assurda che fosse sufficiente la ricezione di un'informazione di garanzia per essere estromessi da una carica pubblica o addirittura per non partecipare a una elezione significava che la magistratura si era genuflessa in modo servile davanti alle iniziative della magistratura stessa. Quindi la invasione di campo, un po' arrogante qualche volta, della magistratura è stata favorita da questa ritirata codarda della politica. Come si può uscirne? Beh, allo stesso modo simmetrico e contrario. Cioè la politica deve riappropriarsi i suoi poteri che sono fondati sulla legittimazione popolare delle urne e la magistratura deve rientrare nei ranghi. L'autonomia e l'indipendenza che ha la magistratura sono principi sacrosanti, ma devono essere limitati alla giurisdizione e in un certo senso anche alle indagini. ma non possono minimamente influire e non devono influire sull'esercizio della funzione politica né direttamente né indirettamente. Cosa che purtroppo in questi trent'anni, ripeto, è accaduto. Volevo fare, dottore, una domanda circa la gestione delle carceri e del tema del sovraffollamento carcerario. L'Italia è stata più volte condannata dalla Corte Europea dei Tritti dell'Uomo in passato e questo tema continua, particolarmente durante la pandemia anche a essere di attualità politica. In passato si abusò dell'amnistia, in 28 anni molti casi di amnistia poi nel 1992 l'Istituto fu riformato e si è giunti a un'abrogazione di fatto dell'Istituto. Ora, c'è un'analogia con l'articolo 68, autorizzazione a procedere in cui ha parlato l'Avvocato Benedetto nel suo libro «L'etanasia della democrazia». Quando gli istituti non funzionano si dovrebbe correggerli piuttosto che abrogarli di diritto o di fatto. Però quali mezzi noi dovremmo adottare per affrontare questo problema? Quello del sovraffollamento carcerario. Premesso che l'eliminazione dell'immunità parlamentare è stato proprio uno dei gesti di codarda abdicazione da parte della politica di fronte al giacobinismo giudiziario sia della magistratura sia di una certa stampa. Ricordiamoci che l'immunità parlamentare era stata approvata dalla Costituzione dove sedevano Togliatti, De Gasperi, Nenni, Salagat e quindi personaggi di alta cultura politica che avevano perfettamente davanti la possibilità, cioè il rischio che di questa immunità qualcuno facesse un uso e un abuso improprio. Ma hanno accettato il rischio perché sapeva che la sua eliminazione avrebbe avuto degli effetti ancora più devastanti, cioè avrebbe esposto le persone elette dal popolo alle aggressioni giudiziarie, cosa che poi è accaduto. E l'immunità non dovrebbe essere un privilegio dato alla persona ma dato alla carica, perché l'eletto da parte del popolo in quel momento rappresenta il popolo italiano. E quindi questa rinuncia, questa abdicazione, questa eliminazione dell'immunità è stata nettamente funesta per la stessa politica. Per quanto riguarda l'amnistia è la stessa cosa. Per anni è stata usata come mezzo di deflazione processuale e carceraria e poi improvvisamente è stata virtualmente eliminata. Anche qui il pendolo che era andato da una parte e poi è stato lasciato andare e è andato dall'altra, anche qui in modo irrazionale. Sulla decarcerizzazione però il problema deve essere affrontato, come si dice ormai con un'espressione banale, più a monte, nel senso che in una visione liberale e moderna la carcerazione di carcere inteso come manette, inteso come catenaccio, come sbarre di acciaio, deve essere considerata una sorta di forma obsoleta di sanzione. Non solo e non tanto perché è contrario a quella tendenza rieducativa della pena che è scritta nella Costituzione, ma perché ha dimostrato, come ha scritto varie volte Marco Pannella, di essere quasi un elemento criminogeno. Naturalmente il carcere non è eliminabile perché ci sono dei reati, soprattutto di violenza, che per l'allarme sociale che provocano non hanno alternativa per quanto riguarda la sicurezza pubblica e anche l'incolumità della collettività. Però dovrebbe essere l'eccezione dell'eccezione, soprattutto nella sua forma di carcerazione preventiva. E quindi cosa fare? Bisogna orientarci verso un diritto penale minimo e soprattutto verso un diritto penale che preveda come sanzione le varie, oggi si chiamano pene alternative o pene suppletive, chiamiamole come vogliamo, che siano alternative appunto al carcere. Si pensa ai lavori utili, agli arresti domiciliari, a tutte quelle forme che possono essere delle sanzioni vere, anche afflittive, ma che non confliggono né con il principio di tendenza rieducativa della pena e nemmeno con quello dell'incapacità dello Stato di gestire una popolazione carceraria che è incompatibile con le strutture che abbiamo. Dovevo poi fare una domanda sulla sua idea di giustizia, perché lei ha esercitato per molti anni la funzione di pubblico ministero in difesa della legalità, però tanto per la repressione dei reati quanto per la difesa dei principi di garanzia. E questo è un fatto unico in Italia dal momento che siamo in un conflitto permanente tra giustizialisti e garantissi dallo scarso significato sostanziale. Quindi le volevo chiedere, secondo lei come si devono affrontare ad esempio i reati dei colletti bianchi, se c'è un'emergenza o se in realtà la situazione italiana è analoga a quella degli altri paesi occidentali? E poi cosa ne pensa, ad esempio, delle politiche di law and order che sono tipiche di Stati Uniti e Inghilterra, specialmente i partiti conservatori, basti pensare al partito repubblicano americano. Ecco, cosa pensa di queste politiche e poi più in generale quali sono i valori che l'hanno guidata nell'esercizio delle funzioni di pubblico ministero? Beh, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto sono i valori della legalità e della presunzione di innocenza. Presunzione di innocenza che per carità qualche volta può anche confliggere con la logica, perché se il reato è flagrante ed è commesso davanti a tutti, se Tizio accoltella a Caio durante un'assemblea davanti a 100 persone sarà anche presunto innocente, però è evidente che non si può lasciarlo lì magari in attesa che accoltelli anche Sempronio. Però queste sono appunto eccezioni delle eccezioni, mentre in Italia si è affermato il principio di una carcerazione preventiva quasi generalizzata, quasi imposta, per cui anche in assenza di flagranza di reato e talvolta anche in assenza di gravi indizi di coltevolezza. Quando noi vediamo le percentuali di persone arrestate o meglio incarcerate con la forma di custodia cautelare preventiva che poi vengono assolte significa che c'è stato un macroscopico errore da parte del pubblico ministero e da parte del GIP. Quindi anche lì andrebbe... La legge nostra è abbastanza garantista su questo, però come insegnava Platone è meglio avere una legge stupida e un giudice intelligente piuttosto del contrario. Se la nostra legge, per quanto scritta bene, ancorché carente su certe cose, fosse stata applicata correttamente, non avremmo assistito alle perversioni in cui abbiamo assistito. Invece è accaduto che delle persone siano state arrestate anche senza che esistessero concretamente le ipotesi, le condizioni per la limitazione della loro libertà. Per quanto riguarda i sistemi anglosassoni, qui il discorso è ancora più lungo perché noi non possiamo prendere dalle istituzioni straniere dei piccoli mattoni o prendiamo l'intero edificio oppure questo ti crolla addosso. L'esempio più evidente è proprio il nostro codice di procedura penale. Noi lo abbiamo scopiazzato dal sistema anglosassone, direi più da quello americano che da quello inglese, senza però assumerne, senza prenderne tutti gli elementi, le connotazioni essenziali che mi limito a ricordare, la separazione delle carriere. La fondazione Inauli porta avanti sempre la separazione delle carriere. Questa è l'idea liberale. Non solo, ma la differenza tra il giudice del fatto e il giudice del diritto. La giuria che emette il verdict e il giudice che emette la sentence. La discrezionalità dell'azione penale, l'ho detto, la separazione delle carriere, la revocabilità dell'azione penale. Quando il pubblico ministero si accorge che il processo si sta impantanando, drops, gives up, rinuncia all'azione penale, il processo si estingue. Da noi è irretrattabile. La giuria che è ricusabile in parte qua, solo perché per esempio l'imputato o il suo difensore hanno l'impressione, interrogano il giurato per sapere quali siano le sue idee, quel giurato può essere ricusato. Cosa che da noi potrebbe e dovrebbe secondo me accadere dopo lo scandalo Palomara, quando l'imputato avrebbe il diritto di chiedere al suo giudice, ancorché togato, se abbia mai ricevuto dalle telefonate come quelle che ha fatto Palomara o se si è iscritto a una corrente di quelle che insisteva, perché ne abbiamo le prove, che certi politici devono essere attaccati anche se sono innocenti. Ecco, tutto questo, questa impalcatura del sistema anglosassone, non è stata recepita dal nostro codice di procedura e per una ragione abbastanza semplice, che non poteva esserlo perché è incompatibile con la nostra Costituzione. Noi abbiamo assistito e assistiamo ancora oggi a un paradosso che la nostra Costituzione, che nella gerarchia delle fonti dovrebbe e deve prevalere sul codice di procedura penale, in realtà è stata adattata, quando è stata promulgata, al codice di procedura penale esistente allora. Cioè i nostri padri costituenti avevano di fronte il codice di procedura penale Rocco, scritto peraltro in gran parte da Giovanni Leone, che sedeva la Costituzione e tra l'altro nessuno di loro avrebbe mai pensato che 40 anni dopo sarebbe entrato in vigore un codice alla perimeso. Per cui la nostra Costituzione ha recepito tutti gli elementi, l'unità delle carriere, l'obbligatorietà dell'azione penale, l'unità del giudice del fatto col giudice del diritto, che erano tipiche del processo inquisitorio. Quando è entrato in vigore il codice Vassalli, non essendo stata modificata la Costituzione, si è rivelata questa incompatibilità. E infatti il codice di procedura è stato modificato varie volte dalla stessa Corte Costituzionale, dove tra l'altro sedeva il professor Vassalli, mentre paradossalmente il codice penale che è firmato da Benito Mussolini e dal re Vittorio Emanuele III e che è datato del 1930, gode di buona salute ed è stato modificato molto meno di quando non sia stato il codice di procedura che è stato scritto da un decorato della Resistenza. Dottor Nordio, arriviamo all'ultima domanda per che il tempo a nostra disposizione si sta per concludere e quindi, visto che lei ha citato più volte la Costituzione anche in questo suo ultimo intervento, io leggo il titolo dell'ultimo editoriale che è stato pubblicato a sua firma ed è una riforma costituzionale per garantire la stabilità e poi anche proporzionale una legge fuori dal tempo. Lei ritiene che ci sia ancora il tempo in questa legislatura per fare delle riforme? La Fondazione Inaudi ha fatto anche una proposta, quella di un'assemblea costituente da eleggere insieme al prossimo Parlamento che si occupi della riforma della seconda parte della Costituzione. Potrebbe essere questa la soluzione secondo lei e sulla legge elettorale ci dica anche quello che pensa. Partendo dalla legge elettorale la sola idea di reintrodurre il sistema proporzionale era capricciante perché funzionava quando entrò in vigore la Costituzione quasi 80 anni fa perché esistevano dei partiti molto solidi dal punto di vista anche ideologico guidati da dei leader che erano personalità di grandissima cultura politica e sensibilità istituzionale ancorché di idee diversissime però gli stessi nomi di De Gasperi Togliatti e Saragat ci incutono un timore riverenziale perché diciamo che ci danno anche una certa nostalgia del tempo addietro benché si tratti di un fenomeno generalizzato perché è un po' comune a tutti il fatto che a tutti i paesi il fatto che siano i tempi che fanno gli uomini e non gli uomini che fanno i tempi la Gran Bretagna a quel tempo aveva Winston Churchill e oggi ha Johnson la Francia aveva De Gaulle e oggi abbiamo Macron quindi non c'è da stupirsi di questo resta il fatto che una riforma proporzionale oggi quando i partiti si sono praticamente dissolti e questo lo si è visto anche durante le ultime elezioni del Quirinale sarebbe una catastrofe nella catastrofe avremmo il prossimo Parlamento assolutamente ingestibile poi per quanto riguarda la riforma costituzionale io non credo affatto cioè lo auspicherei e l'ho anche scritto ma questo Parlamento non ha né la forza né la volontà né niente per fare delle riforme costituzionali o anche per proporre un'assemblea costituente l'assemblea costituente però è l'unico modo per salvare questo paese e aggiungerei anche una cosa non soltanto la seconda parte della costituzione è tutta la costituzione che va cambiata perché poggia su due pilastri culturali che oggi sono superati poggia sull'ideologia cattolica e oggi il cattolicesimo come sappiamo e vediamo bene si è secolarizzato e su quella marxista che oggi è tramontata ma è lo stesso articolo 1 che confligge con l'idea liberale una repubblica democratica fondata sul lavoro ricorda un poco evoca un poco le colline della Corea del Nord e le spiagge di Cuba preferirei di gran lunga l'articolo 1 fondata sulla libertà grazie grazie dottor Nordio anche per questo suo contributo per questa provocazione io la ringrazio di aver partecipato a questa a questa nostra conversazione alla Capley del mercoledì ringrazio Andrea Davola per il suo contributo ringrazio il professor il dottor Carlo Nordio ricordo componente del consiglio di amministrazione della fondazione Naudi la fondazione che ha ospitato nella sua sede romana questa conversazione do a tutti appuntamento alla prossima settimana alla prossima puntata del Capley del Mercoledì grazie e buonasera arrivederci